Parla tifoso dell'Azzura. È un piacere essere qui con voi oggi. Come sempre, il nostro team è impegnato a migliorare le prestazioni del club per ottenere risultati brillanti. Prima di proseguire ti chiedo di lasciare un mi piace e di iscriverti al nostro canale per non perdere nessuna. Novità esclusiva, oggi portiamo una notizia che sicuramente ci lascerà tutti preoccupati. Il nostro attaccante, Viktor Osman, sta affrontando un infortunio che lo terrà fuori gioco per almeno 40 giorni. Il suo possibile ritorno potrebbe avvenire dopo la prossima sosta. Ora, so che molti di voi probabilmente staranno pensando, il Napoli ha già giocato senza Osman. Tuttavia, amici miei, avere Viktor Osman in campo fa la differenza. Tra le nostre prossime partite ci sono gli scontri contro Verona, Union Berlino in Germania, Milan, Salernitana, ancora Union Berlino a Maradona ed Empoli. Sfortunatamente, sua maestà il re durante questo periodo sarà sugli spalti e in infermeria. Ciò di cui ha bisogno ora è cure, e siamo certi che presto tornerà, riempiendoci gli occhi di giocate incredibili. In questo momento difficile sosterremo Raspadori e Simeone, che avranno la responsabilità di guidare l'attacco del Napoli. Hanno talento e sono pronti ad affrontare questa sfida, ma ora vogliamo sentire la vostra opinione, fan appassionati. Come vedi questa situazione? Quali sono le tue aspettative per le prossime partite senza Osman? Condividi le tue opinioni nei commenti. Ricordatevi di lasciare il vostro mi piace e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutti gli aggiornamenti del Napoli. Insieme siamo più forti! Forza Napoli sempre!